Secondo una stima del registro tumori alto adige, nel 2013 si sono registrati 3.327 nuovi casi di cancro in provincia di Bolzano. 1.421 hanno riguardato le donne, 1.905 gli uomini. I tumori più frequenti nella popolazione femminile sono quelli alla mammella, seguiti dal colon retto e al polmone, mentre nella popolazione maschile i casi più frequenti nel 2013 hanno riguardato la prostata, colon retto e polmoni. L'associazione assistenza tumori alto adige proprio in occasione della giornata mondiale contro il cancro ha presentato il nuovo pass per la prevenzione, completa di brochure con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione a sottoporsi a controlli ed esami medici con regolarità. Se diagnosticato in tempo infatti un tumore può essere curato con esito positivo. All'interno del pass gli interessati potranno trovare informazioni utili proprio riguardo alla tematica e avranno la possibilità di segnare le date dei controlli, gli esiti e le scadenze di ulteriori esami. Una sorta di diario della propria situazione sanitaria e un impulso in più a tenersi sotto controllo, visto che anche in alto adige purtroppo sono molte le persone che non effettuano visite con regolarità. Le donne sono molto più brave, l'uomo no, la donna va a fare i controlli però come ho detto l'uomo no. Noi proprio questa giornata diciamo a tutti andate fate questo screening che non costa niente perché è meglio prima che tardi perché un tumore all'inizio si può fare tanto. La brochure pass per chi fosse interessato è disponibile in tutte le sezioni dell'associazione assistenza tumori dell'alto adige e anche negli ambulatori dei medici di base.